Buonasera cari ascoltatori di Radio Pugginio NER. Oggi ci tuffiamo in un curioso episodio che ha visto protagonisti due volti noti della scena italiana, Matteo Salvini e Fedez. Un episodio che unisce politica, musica e un pizzico di comicità, ironia. Parleremo dello scherzo telefonico che il rapper milanese ha fatto al leader della Lega. Una storia che ci offre uno spunto interessante per riflettere sulla nostra società e sui protagonisti che la animano. Ma andiamo con ordine e raccontiamo i dettagli di questo scherzo, le reazioni e il contesto più ampio in cui si inserisce. Tutto è iniziato domenica sera, subito dopo la chiusura dei seggi per le elezioni europee. Mentre molti di noi erano probabilmente immersi nei risultati elettorali, noi vi stavamo raccontando i primi exit poll, il nostro Matteo Salvini ha ricevuto una telefonata inaspettata. Erano circa le 23.30 quando il suo cellulare ha iniziato a squillare e sul display è comparso il nome Fedez. Possiamo immaginare la sorpresa di Salvini nel vedere il nome del famoso rapper milanese, considerando che due non sono esattamente amici intimi, ma come raccontato dallo stesso Salvini, la prima reazione è stata di preoccupazione. Magari a quell'ora avrà avuto un problema, ha pensato. Fedez dall'altra parte del telefono ha simulato una chiamata partita per sbaglio. «Scusami, mi sarà partita una telefonata», ha detto. Salvini, forse un po' confuso ma comunque educato, ha risposto salutandolo e chiedendogli come stesse, proponendo addirittura di vedersi per un caffè. Un gesto di cortesia che ci mostra un lato umano del politico spesso visto come rigido, severo oppure da qualcuno ignorante. Ma la sorpresa arriva il giorno dopo, quando Salvini scopre che tutto era uno scherzo telefonico orchestrato da Fedez. La sua reazione? Un misto di divertimento e lieve irritazione. «Io li facevo a 12 anni gli scherzi di quel tipo quando c'era il telefono che dovevi girare con il dito, poi facevi la pernacchia e buttavi giù», ha commentato Salvini. E qui una riflessione interessante. «Quanto sono cambiati i tempi e i mezzi di comunicazione, dalle vecchie linee fisse ai moderni smartphone, il concetto di scherzo telefonico rimane però sempre lo stesso e si adatta ai tempi». Lo scherzo di Fedez, definito da Salvini come sciocchino, ha comunque suscitato una reazione positiva. Il grande Charlie Chaplin diceva che una giornata senza sorridere è una giornata persa. «Un bacione a Fedez», ha concluso il leader della Lega. E qui emerge un altro spunto di riflessione, l'importanza del sorriso della leggerezza anche in politica. Nonostante le divergenze e le tensioni, un piccolo momento di larità può avvicinare le persone e umanizzare i protagonisti della scena pubblica. Ma non finisce qui. Salvini ha voluto anche parlare di un altro grande della musica italiana, Vasco Rossi. «Grazie anche a Vasco che fa degli spettacolari concerti nella mia Milano a San Siro», ha detto. «Anche se Vasco non sempre ha parole dolci nei confronti di Salvini. Il politico ha espresso la sua ammirazione per l'artista. La musica è musica, io adoro i suoi pezzi. Può dire di me quello che crede. Non cambia il mio giudizio su un grande artista». Ha concluso. Questo episodio ci offre diversi spunti di riflessione. Innanzitutto la capacità di sdrammatizzare, di rispondere con un sorriso ad uno scherzo, anche quando è una figura pubblica di primo piano. Secondo luogo l'importanza della musica come elementi, in un certo senso elemento unificante, capace di superare le barriere ideologiche e politiche. Salvini, nonostante le critiche ricevute da artisti come Fedez e Vasco, riconosce il loro talento e la loro importanza nel panorama culturale italiano. Un altro aspetto interessante da notare è Fedez che si diverte a fare una telefonata, uno scherzo telefonico a Salvini. Chissà se questo scherzo telefonico fa parte di una prossima trasmissione o di un prossimo podcast. Si sta creando un nuovo podcast al posto di Muschio Selvaggio che, lo sapete, l'abbiamo detto, lo ha perso definitivamente e ora è solo di Louis Sal. Per cui vedremo anche questo. D'altra parte anche episodi come questo ci mostrano che i politici sono sempre più sotto i riflettori anche di artisti che possono influenzare il dibattito pubblico non solo attraverso la loro arte ma anche attraverso gesti, iniziative che esulano dal loro campo abituale. La telefonata di Fedez e Salvini ci ricorda anche la potenza dei social media e delle nuove forme di comunicazione. Un semplice scherzo telefonico se condiviso sui social può diventare virale e raggiungere un vasto pubblico in pochissimo tempo. Questo pone una serie di questioni su come le figure pubbliche devono gestire dunque la loro presenza online e le interazioni con le persone, la comunicazione. Infine una riflessione sulla figura di Fedez, noto per le sue canzoni, la sua presenza sui social, si conferma come un personaggio poliedrico capace di muoversi tra musica, intrattenimento e impegno sociale. La sua iniziativa di chiamare Salvini potrebbe essere vista come una semplice burla ma potrebbe anche essere molto di più, staremo a vedere cosa esce fuori. Cari ascoltatori questa è la storia dello scherzo telefonico di Fedez a Salvini, un episodio così leggero che ci offre una finestra su questo evento di attualità perché comunque sia una notizia che ha fatto il giro di tutti i giornali. Vi ringraziamo per averci seguito, invitiamo a restare sintonizzati su Radio Puggini On Air per altri approfondimenti e curiosità dal mondo dell'attualità e della cultura e molto altro. Al prossimo episodio di Radio Puggini On Air.